E ora parliamo di tradizioni prettamente natalizie, ma anche dell'importanza di valorizzare i prodotti del proprio territorio. Abbiamo nei nostri studi il sindaco di San Giovanni Rotondo, Costanzo Cascavilla. Buongiorno, buona domenica. Buongiorno a tutti voi. Bentrovato. Parleremo oggi di prodotti tipici partendo da una curiosità, perché c'è un cittadino di San Giovanni Rotondo che ha realizzato un panettone da donare al nostro premier, è così? Sì, abbiamo voluto coinvolgere il nostro amico Gino nel produrre innanzitutto un bel panettone artigianale in modo da omaggiare il nostro premier per le feste natalizie. È stato un evento importante anche perché tutto ciò è preludio a un lavoro che faremo sulle produzioni tipiche del nostro territorio di San Giovanni Rotondo, strettamente di San Giovanni Rotondo, con la denominazione comunale di prodotto. Stiamo individuando anche con altri amici produttori un paniere di 10-12 prodotti che possa essere posto all'attenzione di un più vasto pubblico, dei turisti, ma anche degli stessi nostri concittadini che sapranno individuare in questi prodotti un segno della nostra tradizione, ma anche un segno soprattutto della grande manualità e tipicità di questi prodotti. Noi vogliamo lavorare già da subito perché poi tutto ciò verrà convogliato in quella scuola del gusto che sarà proprio aperta in quell'ospedaletto dove Padre Pio appunto nel 1925 diede il primo segno di vicinanza agli ammalati, quindi nel centro storico Largo delle Monache, Piazza De Mattia per chi è di fuori San Giovanni Rotondo. Quindi lì verrà la nostra scuola del gusto ristrutturata in un hub culturale ma anche di produzione. Ci stiamo lavorando, è un segno importante perché sulle produzioni, sull'enograestronomia si fonda anche una diversificazione turistica ma anche un'integrazione del nostro turismo che è fatto ovviamente per 90-95% di pellegrini, di turisti che vengono attratti da Padre Pio ma che potranno avere anche un altro momento di godere delle bellezze del nostro territorio ma anche delle prelibatezze del nostro territorio. Bene, stiamo vedendo anche delle immagini che riguardano la preparazione di questo prodotto, di questo panettone artigianale interamente composto da prodotti tipici di San Giovanni Rotondo. Prodotti tipici a chilometro, a metro quasi zero e questo è il modo di andare avanti. Oggi si sta ritornando verso una produzione che sia rispettosa del territorio, che sia appunto più vicino possibile al luogo di produzione perché bisogna battere le emissioni, questo ce lo dice anche l'Unione Europea e soprattutto bisogna dare contezza del luogo di provenienza del prodotto, anche dell'ingrediente che compone poi il prodotto finale e questo è un grande lavoro da fare su tutti i territori. La Regione Puglia ci è anche vicina da questo punto di vista ed è affatto proprio una linea privilegiata anche per il turismo ma anche per la cultura perché il giacimento culinario, i giacimenti culinari sono fondamentalmente un'attrazione ma anche un luogo di cultura, di riscoperta del territorio. Quindi noi abbiamo da fare un lavoro importante nella ricostruzione delle ricette di questo paese che sono tante, le nostre mamme, le nostre nonne per chi ne ha ancora ce lo insegnano e poi riportarle così come era la produzione originaria ma anche, come dire, rivederle in un'ottica anche di innovazione di cucina. Insomma, in televisione è pieno di chef o di altro che lavono di pasticceri, le trasmissioni sono infinite però non dobbiamo solo guardare la tv ed è strano dirlo in un luogo di tv però dobbiamo anche praticare queste nuove forme di valorizzazione delle produzioni. Grazie Sindaco per essere stato con noi e grazie a voi tutti per averci seguito.